I rigidi inverni orobici trasformano pareti a quote moderate in selvaggi versanti glaciali. Per scoprire al meglio i numerosi itinerari che spaziano da canali ormai classici, nuovi percorsi di ghiaccio e misto moderno su versanti quasi inesplorati, Valentino Cividini, Marco Romelli e Matteo Bertolotti hanno scritto Ghiaccio delle Orobie, la guida edita a Versante Sud che propone itinerari con piccozze e ramponi nelle Alpi Orobie, Presolana, Grigne, Concarena e Resegone. Ghiaccio delle Orobie lo trovi in libreria, nei negozi specializzati e online.